Acquara coge il pallone, paletta, altro cross al centro, deviato! L'errore di Andanovic e il Parma che ripassa in vantaggio con Marco Parolo, incredibile errore di Samir Andanovic che dice subito ho sbagliato io, ho sbagliato io, nel modo più incredibile, nell'unico minuto di recupero, l'Inter torna sotto. Il lancio di Pirlo per Pompà, davanti alla porta, la respita di Andanovic. Aria, Devez prova il controtraversone, colpo di terza di Vidal, la respita poi Isla, pallone sul fondo, palla goal clamorosa. Per Di Natale, Di Natale, la parata di Andanovic, la parata di Andanovic dopo nemmeno 90 secondi dell'inizio del secondo tempo. Strotman, grande idea per Florenzi, Andanovic, tiene in piedi l'Inter. Strotman, lancio lungo, preciso, fantastico per Gervinio, che se ne va da solo, Gervinio, Gervinio, Gervinio! Salva tutto Andanovic. Parti di Amanti, Andanovic, calcio d'angolo! Riparte il Bologna, palla profonda per Rolando Bianchi, intervento di testa di Juan Jesus, Bianchi! Che parata di Andanovic! Il controllo, attenzione al sinistro, da parte di Pozzi, blocca Andanovic. Ed era, Gambiadini. Gambiadini molto lontano, prova il sinistro e riesce a bloccare Andanovic. C'è l'angolo intanto per Anna Sammonovia con il pallone dentro, l'area, la parata di Andanovic. C'è un po' impreciso per Castano, arriva a cuori Borchio! E c'è una parata importante di Andanovic. Pandev contro Andanovic, parte Pandev, il tiro e la parata di Andanovic in calcio d'angolo! Poi il pallone in destra, la rilezione, la palla resta lì, turba con il sinistro! Il miracolo di Andanovic, poi Romulo, ancora un miracolo di Andanovic! Che occasione proprio nel finale per il Verona! Grande Maxi Lopes, Andanovic! Gli nega il gol dell'1-1! Vede infrangersi, bisogna di pareggio immediato, di risposta di car di Maxi Lopes! Maxi Lopes, va a girarsi Maxi Lopes! Col destro! Andanovic arriva! Grande giocata, balla alla porta di Maxi Lopes! Asensori sulla barriera! Ci arriva ancora Andanovic! Con un volo, una prudezza di Sabine Andanovic! Il cross di De Silvestri, Soriano! Ancora Andanovic! Altra grande risposta del portiere dell'Inter, che dice di no, anche a Roberto Soriano! Il cross che arriva dentro, il colpo di testa! Andanovic! Con un'altra super parata, dice di no a Cassano! Parte Cassano! Cassano Andanovic! E poi, balla sul fondo! Altro rigore! Parato da Sabine Andanovic! Fallo 16! Tutto corto, Keita! Il cross! Colpo di testa di Biava! Andanovic! Si supera! Vicino la doppietta! Felipe Anderson Fa il cavo per via orizzontale Largo Keita Salito Keita Punta Ranocchia Keita con il sinistro Andanovic! Il calcio d'angolo Per Erigna Versa la conclusione per due volte Trevava da Felipe Anderson Piazza lui il destro C'è una deviazione Andanovic Miracoloso con il piede Grande intervento di Andanovic Per Erigna